ciao a tutti ragazzi qui a zio degli animali che parla in questo video andremo a vedere alcune curiosità sui rettili avete presente quando ricevete un'informazione di cui non vi importerebbe assolutamente nulla ma una volta che la ricevete di te cavolo che figata andremo a vedere alcune di queste curiosità la prima curiosità riguarda gli organi genitali maschili nei rettili che è composto da due emipeni perché due perché tutti i rettili sono muniti di coda giustamente e di conseguenza quando il maschio si va ad accoppiare andrà a montare da dietro la femmina e in base a dove è posizionato il maschio andrà ad utilizzare o l'emipene destro o l'emipene sinistro in modo da raggiungere l'obiettivo la seconda curiosità riguarda la maggior parte dei gecchi ma anche i serpenti e riguarda gli occhi avete mai visto un serpente chiudere gli occhi avete mai visto un vostro gecco ciliato battere le palpebre assolutamente no perché questi animali hanno appunto la palpebra modificata e invece di avere una palpebra protettiva come ad esempio ce l'abbiamo noi l'hanno modificata e si è trasformata in una specie di lente a contatto permanente in modo da proteggere l'occhio e tenerlo sempre idratato ed evitare appunto che si vada a seccare permettendo all'animale di non dover mai chiudere gli occhi la cosa interessante è che ad esempio la maggior parte dei gecchi se dovesse avere dello sporco sull'occhio magari della papa o gli vanno delle gocce d'acqua durante una pioggia o una nebulizzazione andrà con la lingua hanno la lingua abbastanza lunga e andrà a pulirsi l'occhio in modo da non avere la vista compromessa questa cosa è utile anche ai fini di allevamento perché se ci dovessero essere dei gecchi inappetenti una buona cosa è quella di sporcargli gli occhi con un po di pappa in modo che loro giusto per andarsi a pulire andranno anche indirettamente ad alimentarsi la terza curiosità di questo video invece riguarda l'apparato respiratorio sorprendentemente nei rettili l'apparato respiratorio è molto molto simile a quello dei volatili non tutti lo sanno ma l'ingresso dell'aria nei polmoni nei rettili avviene tramite un piccolo buco che hanno alla base della lingua come la maggior parte degli uccelli invece i serpenti ad esempio fanno passare l'aria precisamente nello stesso buco da cui esce anche la lingua quindi quando noi vediamo il serpente che fa uscire la lingua da quello stesso buco è dove passa l'aria per entrare nei polmoni questa è un'informazione particolarmente importante perché ad esempio quando si va a forzare l'alimentazione in un serpente bisognerà stare attenti a non andargli a ostruire per troppo tempo il buco della lingua perché rischiamo di far soffocare il nostro serpente la quarta curiosità invece riguarda i suoni che possono emettere i rettili c'è la canzone famosissima e il coccodrillo come fa in realtà il coccodrillo emette un suone anche molto potente sentiamolo quindi in realtà sappiamo che verso fa il coccodrillo ci sono anche molti altri rettili che riescono ad emettere dei suoni difficilmente sono suoni diversi da quello che può essere un urlo un sibilo un qualcosa ma ad esempio vi faccio sentire un mio giovane boa che suono riesce a emettere e non dimentichiamoci del forse il gecko più famoso per questa caratteristica che è il gecko tokai gecko gecko che appunto grazie al suono suono diciamo al rumore che riesce ad emettere grazie a quel suono l'hanno rinominato così perché quando lo fa sembra che dica gecko gecko e allora l'hanno nominato così quindi grande cervello biologi e sentiamolo l'ultima curiosità di questo video riguarda invece un tema abbastanza particolare che è il cervello dei rettili noi da sempre anch'io lo dico sempre nei video i rettili non provano emozioni dato che sono privi del sistema limbico che appunto quella parte del cervello che permette di provare sentimenti o comunque emozioni in realtà ci sono alcuni rettili che fanno eccezione perché è vero non provano emozioni ma comunque hanno una facoltà di ragionamento basti pensare a quei rettili che hanno una scala gerarchica dove magari c'è il maschio alfa o la femmina alfa quindi l'animale è in grado di stabilire se lui è più forte o cattivo di qualcun altro quindi comunque una sorta di ragionamento ce l'hanno non è raro vedere dei video magari su instagram o su tiktok di tegu argentini che sembrano essere affezionati ai propri padroni probabilmente non si parla di affetto o di amore come magari può essere un cane un gatto o un papagallo ma bensì è un ragionamento opportunista della serie il tegu sa che io gli do da mangiare di conseguenza non mi attacca o mi cerca perché sa che io gli do da mangiare non è un'emozione ma bensì è un ragionamento e non è raro vedere anche ad esempio il nostro drago barbuto il nostro gecko leopardino che se seguiamo una routine come ad esempio dargli da mangiare un'ora specifica ci ritroveremo il nostro rettile pronta ad aspettare più o meno a quell'ora perché sa che in quel momento della giornata gli arriva da mangiare è una cosa ancora più curiosa parlando sempre di questo argomento riguarda ad esempio i gecchi giganti della nuova caledonia quindi parliamo dei leachianus o come li volete chiamare che sono tra i gecchi più grandi al mondo nella riproduzione di questo gecko particolare le cose si fanno molto più complicate rispetto ad altri gecchi perché non è semplice formare delle coppie se adesso io prendo i miei due gecchi leopardini un maschio e una femmina qualunque essi siano e li metto assieme a un certo punto si accoppiano con i leachianus invece la cosa è molto diversa perché bisogna essere fortunati a formare una coppia perché bisogna vedere se il maschio accetta la femmina o se la femmina accetta il maschio e addirittura una volta che si sono accoppiati se per un qualche motivo magari il maschio viene venduto o magari il maschio muore la femmina non accetterà mai più nessun altro maschio quindi è uno di pochi casi di rettili monogami e diciamo formano la coppia per la vita nel momento in cui la coppia viene separata la femmina non accetterà più nessun maschio hanno fatto dei tentativi di inserire un secondo maschio con delle femmine e ogni volta il risultato è stato il più drastico di tutti cioè la femmina ha ucciso il nuovo maschio spero di avervi portato qualche curiosità interessante sui rettili ditemi se già le conoscevate o se vi ho raccontato delle cose nuove nel caso ditemi sotto delle curiosità che conoscete voi che magari le porterò in un prossimo video mi raccomando iscrivetevi e ci vediamo al prossimo video Grazie 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 Grazie